Atrio del Collegio dei Gesuiti, ovvero terra di nessuno, eppure si trova nel centro storico di Alcamo, parco suburbano San Francesco, un'area verde sotto l'abbassionata di piazza Bagolino, risorta dopo l'assegnazione alla cooperativa Laurus, bersaglio di vergognosi vandalismi da parte probabilmente di giovani in preda ai fumi di alcol e droga. Villetta, in prossimità della via Aldomoro, alle spalle del via L'Europa, covo di scalmanati individui, piazza della Repubblica, con aiole e viali cosparsi dei resti di truppe di barbari in transito, via del centro storico, vicine alla zona della movita selvaggia e fuorilegge, che ogni domenica mattina testimoniano le notti folli del passaggio di orde di barbare. Si va di male in peggio, anzi, la deriva ad Alcamo, da qualche anno, appare ormai inarrestabile, nonostante le proteste dei cittadini, vittime di questo oltraggio alle leggi, al buon senso e alle più elementari norme della buona educazione. Niente controlli. E poi, quella musica spesso sparata all'aperto a tutto volume, in violazione di leggi e regolamenti anche comunali, che ad Alcamo sembra che nessuno si voglia prendere la briga di fare rispettare. Ieri mattina, le aiuole e il pavimento dell'atrio del collegio erano cosparse di bottiglie a cocce di vetro, di piccole bustine di plastica che molto probabilmente contenevano droga. Ieri, per tutta la mattinata, un soletto operatore ecologico, solo nell'atrio del collegio, ha spazzato il raccolto, tanto di quel materiale, da riempire un camioncino dal servizio di raccolta del rifute. Il bue, in cui si trova l'atrio, favorisce i bagordi del sabato sera. A manifestare il loro disappunto, ieri, anche sacerdoti che dicono messa alla chiesa del collegio. Nessun giro di vite per arginare tale deriva, la sicura impunità, dà ulteriore coraggio a questi gruppi riuniti in branchi. Niente controlli. E mentre l'operatore ecologico spazzava via e piazze attivo alla piazza Giullo, un altro allarme proveniva dal parco suburbano San Francesco, ancora una volta visitato dai vandali. Parco chiuso per vandalismi, recitava in un cartello. Lo spettacolo, che si è presentato, tra i più sconfortanti. Attrezzi del parco, giochi per bambini distrutti, la bella recinzione in legno danneggiata in più parte, i cassonetti con la spassatura a capovolte e rifiuti sparsi in una bella area, curata con amore e professionalità dall'associazione Laurs. Le telecamere hanno ripreso le incursioni tra le 22.30 e le 23.00. E che dire di Piazza della Repubblica? Il solito squallido spettacolo che si presenta la domenica mattina. E poi, altre segnalazioni, arrivano dalla zona della via Aldomoro. Il sabato notte è diventato ad Alcamo un inferno. Molti pregano che piova intensamente per spegnere gli spiriti bollenti di giovani, spesso minonenni, che si lasciano andare a deprecabile azioni, ai controlli totalmente assenti. Da anni si assiste ad Alcamo a questi fenomeni e mentre le cronache di città vicine si riferiscono di controlli, di multi, di locali chiusi sono trovati in regola e non rispettano il volume della musica o la vendita di alcolici, ad Alcamo sembra proprio di vivere in una terra di nessuno.